Musica Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo nuovamente a Cleto, al Castello di Savuto, per la seconda edizione di Musicleto, tre incontri di musica ineffabile, questa volta in compagnia di Edoardo Ciampi per un'altra tematica molto importante che è Shakespeare in Music. Innanzitutto salutiamo Edoardo Ciampi perché lui è scrittore, sono molte le pubblicazioni e i saggi che ha pubblicato, tutti di carattere letterari o comunque sulla falsariga sempre di Shakespeare, e io infatti ne ho segnati alcuni, Don Giovanni delle Fonti a Mozart, La Coscienza di Shakespeare, Macbeth tra Shakespeare e Verdi e comunque poi diciamo che a fine serata chi vuole potrà acquistarli visto che c'è un banchetto. Iniziamo col descrivere un po' come mai abbiamo scelto di presentare qui questa... cos'è? Beh prima di tutto quando uno parla di William Shakespeare pensa alla sua dimensione letteraria, teatrale, poetica che c'è indubbiamente, però non tutti sanno, forse non tutti ne sanno abbastanza di quello che è stata l'influenza dell'opera shespiriana, teatrale non solo, sulla storia della musica occidentale e non solo, anche sul cinema e anche orientale per esempio, mi viene in mente di Kurosawa, un film per esempio, però al di là di quello e quindi ecco conoscere, quello che faremo stasera è cercare di dare un quadro sintetico della storia della musica attraverso l'opera del teatro shespiriano, l'opera di William Shakespeare, questo sarà il percorso. Io poi tra l'altro documentandomi un po' perché c'è vario materiale su internet come è normale che sia, ho letto che si parla anche nella cultura shespiriana di vari strati di lettura di Shakespeare, cosa vuol dire? Beh è chiaro che l'opera d'arte con la A maiuscola può essere fruita a vari strati, a vari livelli di coscienza, lo stesso Dante nel convivio se non sbaglio parla dei quattro livelli, quello letterale, quello morale, quello allegorico e quello anagogico che è poi il livello finale, quello verticale che diciamo tende ad elevare, ossia il significato spirituale dell'opera d'arte, questo fondamentalmente è quello che mi interessa pure, comunicare dell'opera di Shakespeare e ce n'è tanto, è pieno. Sempre a proposito di elevare parliamo di un'altra tematica che è la cultura e sempre lì ho notato nelle spiegazioni che comunque faceva su internet che si parla sia di culto che di coltivazione e molti non lo sanno. Certo l'etimologia della parola è la medesima culto, coltivazione e cultura perché c'è un rapporto stretto, appunto parlavamo di elevare, di elevazione quindi di culto, ma anche la coltivazione della terra, il rapporto tra l'uomo e la terra è una cultura importantissima, è una dimensione, l'Italia e soprattutto il sud dell'Italia, la Calabria ma tante altre belle regioni del sud, hanno come tratto caratteristico proprio la coltivazione, il culto e la cultura, sono tutte e tre ancora molto vivi e quindi è importante dirlo e testimoniarlo anche qui attraverso Shakespeare. Se dovessimo dare un consiglio ai nostri amici web ascoltatori, a parte acquistare i libri che comunque poi alla fine andranno in sovrimpressione anche per avere un'idea della bibliografia, quale potrebbe essere un consiglio di lettura da dare a un ragazzo che decide di avvicinarsi a Shakespeare perché vuole sperimentare un nuovo modo di approcciarsi alla letteratura? Beh, prima di tutto quando si parla di Shakespeare si parla di teatro, quindi andate a teatro, è il primo passo da fare. Poi eventualmente, qualora ci sia difficoltà ad andare a teatro, leggere i testi, testo teatrale, testo drammaturgico, ci sono delle edizioni bilingue molto economiche, insomma, dovete fare i nomi delle case editrici, ma ce n'è tanti. E poi magari un approfondimento anche saggistico attraverso gli studi che sono stati fatti. Io personalmente mi sono impegnato su anche il rapporto appunto con la musica nel Macbeth di Verdi, appunto sulla fonte shesperiana, ma ci sono anche dei testi un po' più provvedeutici sull'opera teatrale di Shakespeare in generale, insomma. E comunque non è che mi sono espresso solo io sui shesperi, ci sono fior di studiosi ben più accreditati di me che hanno fatto un'opera notevole per divulgare, per approfondire l'opera shesperiana. Io ringrazio Edoardo Ciampi per il tempo che ci ha dedicato, vi invito ovviamente a cercare su internet i suoi video e acquistare i libri che comunque sono veramente tanti. Però vorrei concludere chiedendo come magari portare, non lo so, nella propria città, nella propria università, non so, in propria scuola, quello che invece vedremo qui stasera che è Shakespeare in Music. Come fare a contattarla? Ma guardi, io già a Roma, dove vivo, ho contatti con alcuni licei che mi invitano, dei colleghi, soprattutto su questo studio che ho fatto sul Macbeth di Verdi da Shakespeare, dove mi si contatta tramite appunto la mia mail, che adesso poi lasceremo al giornalista, e eventualmente, certo, venire fuori rimane un po' più difficile, anche perché io sono insegnante, quindi ho un impegno grosso, i miei studenti mi reclamano e poi si arrabbierebbero pure. E a parte scherzi, no, eventualmente si può fare tutto organizzando per tempo, però già a Roma alcune cose stiamo facendo, è stato utilizzato da un liceo classico proprio per gli esami, come corso d'approfondimento, i ragazzi hanno letto il libro e hanno poi incontrato, si sono incontrati con me, abbiamo avuto modo di confrontarci e sono molto soddisfatto, perché questa è la cosa importante, che ai giovani passi questo messaggio di una cultura che non è fine a se stessa, ma che forma, che aiuta a conoscere se stessi e ci rende più grandi e nello stesso tempo anche un po' più piccolini, più umili. Perfetto, a questo punto dal Castello di Cleto è tutto, io ringrazio in particolare il direttore artistico che è Viviana Andreotti che ha permesso di realizzare questo evento che è MusiCleto, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto. Grazie. 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 Grazie.